Stiamo parlando di assegni di ricerca e borse di dottorato, non sono borse di studio perché la terminologia in questi casi è importante, sono dei finanziamenti che vengono dati alla ricerca svolta da giovani laureati nel caso degli assegni di ricerca su progetti che sono stati concordati e sviluppati insieme a delle imprese. Questi finanziamenti erogati dalla regione Umbria con fondi del Fondo Sociale Europeo mirano a fare in modo che si possa trasferire i contenuti della ricerca alle applicazioni produttive, in particolare questo tipo di processi sono quelli capaci di generare innovazione nelle imprese. Stessa cosa va detta anche per un numero minore perché sono decisamente più costose di borse di dottorato di ricerca. Sapete che il dottorato di ricerca dura tre anni, quindi queste borse di dottorato coprono l'attività dei dottorandi svolta presso le imprese per la durata dei tre anni e anche qui c'è un progetto di ricerca alla base, c'è un responsabile accademico che fa da supervisore lo svolgimento di queste attività di ricerca con l'obiettivo di trasferire poi i risultati di questa ricerca all'applicazione produttiva alle imprese, cioè permettere alle imprese di fare quella che noi chiamiamo innovazione di prodotto o di processo, cioè cambiare i processi produttivi o generare prodotti nuovi per il mercato e in questo modo essere decisamente competitive. Questa è una delle funzioni che noi chiamiamo funzione di terza missione dell'università. Nella terza missione dell'università consiste appunto nell'attività del trasferimento dei risultati della ricerca al territorio. È una funzione che da quando è stato approvato il nostro statuto in vigore attualmente, cioè dal 2012, è diventata funzione istituzionale degli studi di Perugia, così come in tante altre università italiane, proprio perché le funzioni istituzionali non sono più solo didattica e ricerca, ma trasferimento dei risultati della ricerca intesa come compito al quale l'università deve per prescrizioni statutarie ad esempio. Grazie a tutti.